Eccoci qua ragazzi, finalmente ricomincia il campionato, ritorna la nostra amata Inter. Oggi siamo qua per Lecce-Inter, prima giornata di questa nuova Serie A Team. Mi auguro che inizieremo col piede giusto, ovviamente mi auguro che appunto vinceremo. Speriamo bene, incrociamo le dita, sempre forza Inter ragazzi e godetevi questa live reaction. Grande, un minuto gli è bastato, un minuto gli è bastato. Alla salute, all'Inter, forza Inter ragazzi. Grande. Ma come fanno? 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 Sì ma già lì lì ha sbagliato Skriniar, l'anticipa metà campo Perché lì cazzo si va toccullare Skriniar a metà campo E poi dietro, adesso voglio capire dietro E lì Brozovic se lo perde, Skriniar continua a guardare quell'altro che sta puntando De Vrij Cazzo vedi che Skriniar guarda lì, ma vai a dare una mano a Brozovic dietro Sì vabbè Andanovic ce lasciamo perdere che ormai è una roba incredibile Ormai è una roba incredibile Andanovic Sì vabbè Tutta la partita a penare Tutta la partita a penare Sti stronzi, stronzi nucleari Va a cagare, vai Mamma mia Mamma mia Andiamo cazzo Andiamo Sì, qui nel like scrivete